Un anno all'estero per conoscersi, per migliorare la lingua e per capire cosa voler fare da grandi. Sono due giovanissimi tifernati che hanno scelto di frequentare, uno negli Stati Uniti e l'altro in Irlanda, un anno delle superiori lontano da casa. Andrò in Minnesota, che è uno degli stati più a nord dell'America, e andrò lì per un anno e andrò appunto a studiare in una high school americana. Ho scelto di fare questa esperienza soprattutto perché era un mio sogno fin da quando ero molto piccolo e perché penso che mi dia la possibilità di scoprire veramente chi sono e di anche vedere il mondo fuori dal mio piccolo paese, dal mio Stato. Un percorso sicuramente complesso, ma altrettanto pieno di stimoli. Andrò in una cittadina all'incirca 20 minuti da Cork, che è la seconda città più importante dell'Irlanda dopo Dublino. Andrò là a studiare e provenendo da un liceo scientifico sceglierò comunque delle materie prettamente appunto scientifiche come chimica, biologia oppure fisica, oltre a matematica inglese, che sono obbligatori. Ho scelto l'Irlanda perché è un paese che mi attira molto dal punto di vista della natura e dal punto di vista dei paesaggi. Mi mette molta tranquillità e molta pace, anche solo l'idea oppure delle semplici foto. Inoltre le persone là sono molto ospitali e molto estroverse, un po' come me, quindi andrò con delle persone assimili a me. Questa scelta è stata premiata anche dal primo cittadino, Luca Secondi, che ha incontrato i due giovanissimi tifernati e si è complimentato con loro. Con il ricevimento di due ragazzi che sono un esempio, che sono una testimonianza importante di giovani che guardano in prospettiva, guardano nel futuro e scommettono sui loro stessi. Decidono appunto di coltivare il loro percorso di studio all'estero e questo è un segno tangibile di come l'investire nel futuro dipende nell'investire di se stessi. Loro sono un esempio, come penso che sono esempio di tantissimi altri ragazzi del nostro territorio, dove l'esperienza e il guardare in prospettiva sono una testimonianza importante per una società migliore.